Grande festa questa sera, qui chiusura dell'oratorio ai santi patroni d'Italia qui stanno vedendo molto bene ecco i nostri cantori che stanno preparando i vari canti qui c'è anche uno spettacolo quale spettacolo è? come si chiama? lo spettacolo? dici lo spettacolo come si chiama? lo spettacolo è bimbi che giocano bimbi che giocano, bimbi che giocano e canzoni varie insomma le canzoni sono scritte da me, il nostro gruppo scrive testi e musica come si chiama il gruppo? 153, 153 grossi film benissimo ecco qui abbiamo preparato tutto sullo sfondo vediamo già la gente in coda perché avrà modo poi di poter gustare le cose belle che adesso andiamo a vedere e a riprendere sopra dove c'è il punto di riferimento ecco qua ecco va bene adesso ci ecco qui ecco qui la tanta tanta veramente tanta gente vedete qui che è in attesa poi che adesso gli diamo il vespro il vespro che avveniremo con il vespro con la preghiera e poi daremo il via a quelli che sono i momenti di rinunciare ecco qua adesso andiamo a vedere su sopra ecco qui continuiamo il nostro tragitto adesso andiamo a vedere dove si prepara il menu ecco qui stiamo camminando in questo momento ecco qua arriviamo silenzio non strillare come una pazza sto riprendendo che pazzi ecco qua gente che strilla che chiama ecco saliamo da questa parte ecco saliamo e andiamo nel reparto dove ecco dove appunto c'è il il menu che viene preparato ecco che entriamo nel reparto cucina cucina all'aperto qua già cominciamo a vedere ecco qua siamo qui alla cucina all'aperto guardate quante quanta gente non sei venuto a mangiare tu sei venuto a mangiare o no? ecco qua ecco qua oh vedi vedi facciamo una bella ripresa sono venuti anche la stampa eh la stampa ecco c'è la stampa sorridente guarda qua che bella che bella questa è tutta pasta fredda andiamo avanti qui abbiamo ecco qui il nostro fotografo che mi ha fatto pagare dieci euro quattro fotografie dieci euro ma se ti ho pagato la colazione per farti riparare per riparare sì ecco qui ecco che siamo qui a mangiare che bello qui vedi guardiamo qui che bella ripresa ecco qui qui abbiamo del pane che è pronto per essere cucinato guardate che è l'altro che complesso che abbiamo qui su ciampa la cadrega ciampa la pancetta cos'è la cassacchetta? cos'è? la pancetta la pancetta qui c'è la coppa viene fatta dal maiale ecco benissimo dicci qualcosa che sei un po' accaldato l'animale che non dorme mai secondo te qual è? sei un po' accaldato il maialetto ecco qui proseguiamo e siamo poi arrivati invece alle patatine fritte vero? ecco qua le patatine fritte chi è che fa le patatine fritte? lei è l'esperto di patatine fritte? chi è l'esperto di patatine fritte? quella allora sei un po' croccante fuori e morbide dentro ahm sei più facile guardate che andate su youtube eh? è un padino sarà allora se andiamo su youtube facciamo la vendita a prodotti ecco va bene assaggiala Giuseppe vieni qua faccia Giuseppe ecco va bene eh devi fa un gamme grazie grazie mi hanno offerto una patatina ecco il dovere grazie grazie ecco qui allora tutto il complesso qua sopra ecco ci affacciamo e rivediamo dall'alto tutto tutto i preparativi guardate che meraviglia ecco fatto con questo terminiamo la nostra ripresa e speriamo che la festa vada bene sembrava che minacciava pioggia invece sembra che le nuvole sono scomparse e quindi sarà una serata veramente stupenda peccato per chi non c'è ciao a tutti